FIAIP ha finalmente coronato con successo un percorso che è stato attivamente proposto prima come emendamento legislativo da parte della nostra federazione, che poi è stato finalmente recepito dal legislatore e grazie all'attiva e intensa collaborazione tra il nostro Presidente nazionale Gian Battista Baccarini e l'Onorevole Sandra Savino, sottosegretario al MEF, con delega ai rapporti con l'Agenzia delle Entrate finalmente possiamo assicurare a tutti i nostri associati la possibilità di fornire un ulteriore servizio ai nostri clienti, che è quello di poter scaricare direttamente i documenti catastali, visure e planimetrie grazie a una delega conferita appositamente dal proprietario. FIAIP, che praticamente tiene per mano tutti i professionisti che hanno deciso di sposare la nostra filosofia ci accompagna e ci aiuta ogni giorno a trovare le migliori soluzioni rapide ed economiche per spiccare in un panorama dove mi sia consentito, ce n'è sempre più bisogno. Quindi un grazie a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato e adesso siamo chiamati a diffondere la notizia in modo che tutti riescano a percepire questo nuovo valore aggiunto anche se, ahimè, devo dire che in molti hanno pensato di salire sul carro dei vincitori e nascondersi nella confusione e nell'euforia della festa per fare loro bella figura a nostre spese. Non ci riusciranno perché noi siamo la FIAIP.